... Liberi TV secondo Pride Calabresi a Reggio Calabria in compagnia della più bella Doretta Drag. Buonasera! Buonasera Calabria! È un onore avervi qui stasera, è un onore essere a Reggio Calabria con questa manifestazione incantevole. Siamo felicissimi di aver avuto un ottimo consenso dalla nostra città. Che altro dire? Ancora la festa continua, quindi divertitevi insieme a noi. Grazie mille per il vostro interesse. Grazie! Doretta ci fai un saluto a Liberi TV! Liberi TV! Buonasera! Grande Doretta! Grazie! 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 Grazie!